facci una faccina dentro da qualche parte fai la sigaretta perfetto i colori adatti grande ah è una canna allora no per venire l'occhio così è una canna vai tutti simboli esoterici e so geometriche ma so pure esoteriche ma questo è un ragno è un granchio lo facciamo un granchio mi devo ricordare come è fatto cioè le denaglie le cheli con le cheli fai un pesciolino dai ce l'ho t'ho fatto lavorare ora ti devo offrire un caffè che vuoi? un caffè gelato che vuoi? a due gessi per volta ragazzi questo è fantastico oggi è pittore ma credici da voi diciamo credici la voce da tu piaccia 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 ancora ha matato la vita a nessuno è vero che non fai assume presentami vuoi il cammino va bene come stanno tenendo è bellissimo e vai ora basta andiamo sul piazzo del caffè dai se no si fredda perché non aveva finito capito allora l'occhio rosso ci vuole a Renna andiamo sul piazzo del caffè dai Grazie a tutti.